Musica Abbiamo già proposto un evento del genere due anni fa, poi ogni anno lo proponiamo a Genova e quest'anno abbiamo deciso di riproporlo qua facendo la mattina una caccia al tesoro guidata e invece il pomeriggio una gara cosplay che consiste nell'interpretare il proprio personaggio in una scena o in una sfilata con i propri gesti e con le proprie emozioni alla fine Sì abbiamo organizzato il cosplay on ice a Genova che lo organizziamo più o meno sempre tra inizio e metà febbraio praticamente andiamo a patinare tutti sul ghiaccio e poi nel pomeriggio si fanno giochi, gara cosplay e ci si diverte più interpretati sono quelli di Naruto, poi i Pokémon spesso volentieri, spesso anche i Disney infatti uno dei nostri giudici della gara cosplay è Ursula della Sirenetta poi le vecchie serie tv dai più anziani per modo di dire perché non c'è un'età per il cosplay se no qualsiasi cosa che si vede è interpretabile abbiamo in previsione di nuovo di organizzare il cosplay on ice l'anno prossimo dunque per il febbraio 2020 e poi vedremo, vediamo se riusciamo tra tutti quanti siamo in 4-6 a organizzare vediamo un attimo se si riesce a ripetere qui ripetere sì grazie